buongiorno buongiorno matrona montagne acqua caffè stamattina mi va di fare un pic caffè lievemente autobiografico sempre autobiografico giornalisticamente forse perché sono stordito da tutti i commenti sulle elezioni americane anche se il primo il primo commentino sarà proprio su su un episodio collegato mi interessano fondamentalmente perché negli stati uniti vive mio figlio da tanti anni con la sua simpaticissima moglie allora la domanda che mi sono fatto leggendo un titolo molto buffo proprio sulle elezioni americane è questa fino a che punto il nostro mestiere viene contagiato dal narcisismo perché questo prestigioso ex famosissimo collega che ha fatto anche il direttore di un giornale maschile cosiddetto maschile di intrattenimento che è stato un volto televisivo che ha fatto anche scritto anche un libro divertente che è stato anche l'inviato di un importante giornale ha fatto questo titolo ha vinto camala e io non credevo fosse uno scherzo di lercio credevo che fosse un mi sono ricordato il male quando scriveva che il capo delle brigate rosse era ugo tognazi e che avrebbero rifatto la partita l'italia argentina in o italia olanda non mi ricordo cos'era si fosse italia olanda in mondiali d'argentina perché italia stava vincendo poi aveva perso due a uno mi sono fatto cioè fino a che punto perché fare un titolo così e significa non aver lavorato in sostanza non aver preso appunti su taccuino né prima né durante né dopo le elezioni e quindi la domanda resta questa fino a che punto il narcisismo contagia il nostro mestiere la seconda fino a che punto l'antipatia o che cosa contagia il nostro mestiere perché c'è un collega a cui voglio bene peraltro con cui ho anche lavorato tanti anni fa boh che continua a martellare il il caffè mi scrive che cazzo ma chi se ne frega di cosa bevi eccetera e l'altro giorno ho fatto un video un caffè in cui dicevo che forse era l'ultimo che ci avrei pensato che forse non avrei più fatto e lui lì subito ha messo like perché io dicevo che fosse dall'ultimo caffè boh strane e poi invece le liete novelle perché io ho scritto per un giornale che si occupa di problemi di vita di benessere diretto da una bravissima collega simpatica che conosco da tanti anni ho scritto un pezzo per per lei e per il suo giornale relativo a quello che mi è successo un anno e mezzo fa cioè quando sono andato in coma eccetera e come le arti marziali il karate e siano state un una luce in quel buio e raccontavo che avevo uscendo dal coma la prima cosa che avevo pensato era la sequenza di uno dei catà più difficile racconto ho raccontato questa esperienza del coma eccetera eccetera raccontata con dovizi di particolari come se parlassi di di qualcun altro no come se appunto avessi prendessi spunto dagli dagli appunti mentali ma sempre appunti dal taccuino cerebrale ecco perché noi abbiamo un taccuino anche in testa è scritto qualche tempo fa ieri miei mi ha mandato un messaggio che mi ha come dire rimesso a posto la giornata articolo bellissimo hai fatto un bel dono al giornale e ho fatto un bel dono al giornale anche tu mi hai fatto un bel dono perché hai dato spazio al dono che ho fatto al giornale e regaliamoci un po di doni un po di simpatia ha vinto la simpatia buona giornata